La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, FISM, ha organizzato il convegno dedicato all'evoluzione della salute nel contesto della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale nella cornice dell'auditorium Cosimo Piccino del Ministero della Salute. Presenti all'evento, esperti delle istituzioni, delle società scientifiche, di partner tecnologici e associazioni di pazienti per esplorare come le nuove tecnologie stiano cambiando il modo in cui viene affrontata la cura dei pazienti, con un focus sulla salute digitale, connessa e supportata dall'intelligenza artificiale e per parlare di competenze. Abbiamo la necessità di alfabetizzare sia i professionisti della salute sia i pazienti, perché viviamo un'era rivoluzionaria in medicina, parte il fascicolo sanitario elettronico, bisognerà riempirlo di contenuti e per poterlo riempire di contenuti è necessario sviluppare delle competenze, le cosiddette competenze digitali, le soft skills. Siamo ormai proiettati verso gli algoritmi di intelligenza artificiale, dobbiamo essere bravi a gestirli e a impostarli. La seconda tappa del percorso, che porterà a fine anno agli stati generali FISM per celebrare i 40 anni dalla Costituzione della Federazione, ha previsto tre sessioni di discussione. La prima sessione è quella che riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della telemedicina e delle sue branche, come per esempio la teleradiologia, la telecomunicazione. Il rapporto, la seconda sessione della salute con il paziente, come questa medicina digitale può cambiare l'approccio anche con il paziente e può migliorare le cure e può migliorare l'organizzazione e sanità e l'ultima sessione è quella dedicata all'intelligenza artificiale. È importante fornire delle nuove professionalità in campo medico e sociosanitario, capaci di usare correttamente la strumentazione digitale, nonché comprendere quali competenze deve acquisire il medico per essere sempre più adatto al mondo dell'intelligenza artificiale. La professione medica è ancora una professione per larga parte che si basa sull'esperienza individuale, quindi che ha una componente molto forte della professionalità individuale. Ecco, l'intelligenza artificiale ci aiuterà a rendere tutto questo percorso così articolato molto più in qualche modo uniforme, così che se ci troviamo sulle Alpi o ci troviamo al mare possiamo ricevere lo stesso livello di qualità di diagnosi e di terapia. Ci muoviamo verso questa direzione. Secondo le istituzioni, la digitalizzazione può migliorare il servizio sanitario nazionale. Può rendere la salute un bene più fruibile a tutti, indipendentemente da dove le cittadine italiane vivono. Quindi è uno strumento, secondo me, per avere una maggiore equità nelle cure. Ci crediamo, stiamo investendo molto in questo e sono certo che avremo risultati positivi per la salute di tutti.